Eravamo abbastanza fiduciosi, speranzosi in un calo dei contagi come si era prospettato nelle settimane scorse. Questa risalita un pochino preoccupa perché la percentuale di soggetti vaccinati nella popolazione generale non è ancora così elevata da poterci mettere al sicuro da una ripresa dell'infezione. Torna purtroppo a salire la curva del contagio in provincia di Arezzo. La stragrande maggioranza dei nuovi positivi sono giovanissimi. Nelle ultime 24 ore 21 infatti nuovi casi nella fascia d'età che va da 0 ai 18 anni nell'Aretino, il dato più alto dell'intera regione toscana assieme a quello registrato in provincia di Lucca. La fascia d'età meno vaccinata in assoluto. Sappiamo che ad oggi la percentuale di ragazzi sotto i 18 anni che ha ricevuto due dosi di vaccino non supera il 4%. Poi c'è da dire che i ragazzi sono per loro natura meno attenti alla valutazione dei rischi per la salute. Vanno d'estate, in vacanza, quindi stanno fuori, in gruppo. E' caldo, quindi anche l'uso della mascherina effettivamente è meno agevole. E quindi tutta una serie di motivi per cui si spiega abbastanza bene il motivo per cui il numero dei casi è più elevato in questa fascia d'età. Il virus dunque nella retino più che mai corre principalmente tra i giovani, fortunatamente tutti senza sintomi o con sintomi lievissimi. Però questo non esclude anche forme più severe anche nelle persone giovani e soprattutto mette a rischio poi le persone più anziane, più adulte, più anziane che vengono a contatto con questi giovani. Qual è l'appello ancora una volta? Continuare a utilizzare le misure comportamentali necessarie a contenere la trasmissione dell'infezione, evitare possibilmente viaggi all'estero se è possibile e soprattutto fare la vaccinazione.